Scopentante partita quella Morciano tra i padroni di casa e il Pietracuta. Il Morciano ha la ricerca di punti salvezza, mentre gli ospiti desiderosi da giudicarsi il campionato con un duello testa a testa con l'Igea, che durerà molto probabilmente fino all'ultimo respiro del torneo. L'inizio farebbe presagire questo quando Fabri, dopo un batti e ribatti sulla destra, entra in area di rigore con un assolo personale prima di essere stesso a terra. Il Morciano recrimina per un'azione partita dal fallo di mano dello stesso Fabri, ma proprio Fabri, dagli 11 metri, si lascia e penotizzare i penalti da Gabellini, che era rientro. Il Pietracuta non demorde, vorrebbe un secondo penalti che l'arbitro non assene. Mentre le proteste continuano, i padroni di casa sobbiscono il colpo e passano al minuto 17. Da una punizione innocua, battuta da Marolli, Fabri, nel tentativo di anticipare l'avversario, infila nella propria porta il pallone del sorpasso, beffando così la Sanni. Il Pietracuta si getta in avanti, fratti tenti destra a giro, marcatura sfiorata di un soffio. Partita a senso unico, ospiti che vanno vicinissimo avversario con questo diagonale di Luca Grossi, che non incide. In chiusura di primo tempo, tio dalla distanza di Ottaviani, neutralizzato dalla Sanni. Alla ripresa, Luca Grossi decide rosa, dato alla giornata e al caldo, di finire anzitempo sotto la doccia. Per proteste, dopo uno sconto a centrocampo, viene espulso. Il Pietracuta, nonostante il nome in meno, continua a fare la partita. Qui i fratti non inquadri il bersaglio. Più preciso dal calcio piazzato, dove ci mette la forza di Branco, ex terzio del Gerova, ma sulla propria strada trova i guantoni di Gabellini. All'ottantesimo, ristabilita la partita numerica, Ottaviani riceve il secondo giallo e viene così espulso. Si aprono gli spazi, Pietracuta concede e Rotondi sfiorirà doppio con la Sanni, che chiude in angolo. Al 95esimo, da una punizione ospite, nasce il pareggio. Gabellini esce per far solo il pallone, aggancia la sfera in un primo momento, ma spintonato perde il pallone, che carambola sui piedi di Tani, che ben appostato, trova il tappin vincente, che provoca la gioia del supporto di Pietracuta. Giunti al seguito è l'apoteosi, mentre per il Morciano viene espulso per proteste Morolli. Amadori non ci sta, mentre Fregnani, nella sua terra, raccoglie un punto che per una volta sa di beffa atroce per gli avversari. Sono molto rammaricato perché avevamo preparato la partita bene, abbiamo sofferto contro la squadra più forte del campionato, stavamo vincendo fino all'ultimo secondo. Purtroppo anche oggi ci sono stati degli episodi abbastanza strani, a partire dal rigore dopo un minuto. Ci sono stati tanti episodi, l'ultima falla c'è stata il carica sul portiere. Loro sono più forti, l'hanno dimostrato sul campo, giocando in dieci una signora partita. Se guardi lo compito delle occasioni ci può anche stare il pareggio. però cominciano ad essere troppe le partite dove siamo trattati come l'ultima della classe. Ci vuole rispetto anche per le squadre che per lottano e per la salvezza. Partita non facile, come questo finale di campionato ci insegna. Acciuffata per una volta anche noi all'ultimo tuffo. Sicuramente il risultato meritato, anzi forse per il gioco espresso ci va anche stretto. però guadagnato all'ultimo istante è tanto, soprattutto perché la squadra ci ha creduto. Ho giocato in dieci praticamente un tempo, abbiamo giocato a una porta, abbiamo preso gol su un cross in mezzo, l'abbiamo deviata noi, poi penso che il mio portiere abbia fatto una parata. Grazie. Grazie.